Tutela del lago Trasimeno, sviluppo del territorio e infrastrutture. Sono queste le priorità emerse durante l'incontro che si è svolto a Castiglion del Lago tra la prima commissione consigliare presieduta da Andrea Smacchi e l'amministrazione comunale, le categorie e gli operatori. I numerosi interventi hanno sollevato le problematiche di un territorio che chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni. In particolare sono state sottolineate le difficoltà legate alla viabilità che versa in uno stato di abbandono e la necessità di accelerare le procedure per la variante alla strada regionale 71, la situazione della sanità, dell'ospedale e del suo collegamento ai parcheggi, il recupero dell'ex aeroporto, il completamento del parco tematico, il potenziamento dell'offerta culturale e museale, la qualificazione delle aree produttive e il recupero dei centri minori, oltre a una maggiore attenzione al lago Trasimeno a partire dalla stabilizzazione del livello delle acque. Il lago è stato detto va protetto ed è un patrimonio con una valenza naturalistica eccezionale che non è stata rispettata nel corso degli anni e il Trasimeno è la maggiore risorsa del territorio anche per lo sviluppo del turismo. Attenzione è stata chiesta per le piccole aziende del territorio e per la pesca, un'attività secolare che crea occupazione e che ha un volano per lo sviluppo. Da più parti è stato chiesto rispetto per un territorio che si sente abbandonato con interventi concreti che, oltre ad essere promessi, poi vengano effettivamente attuati. Il presidente Smacchi ha sottolineato come l'aver iniziato da Castiglion del Lago alle sedute itineranti della prima commissione dimostra l'attenzione per questo territorio. L'impegno è di rappresentare in maniera concreta le esigenze che emergono da questi incontri. Ora, ha detto, siamo in una fase iniziale della programmazione europea 2014-2020 che va costruita insieme. Per l'Umbria ci sono un miliardo e mezzo di euro della programmazione comunitaria. Non possiamo sprecare neanche un euro.